luca luca buongiorno buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a te sono le otto e mezza mi sono sbagliato sono intontito sono in vacanza guarda il look qui allora no è giorno quindi sì certo è certo bello bellissimo 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 pianoforte bellissimo divano so che stasera è una festa con tutti quanti quindi ti sei tagliato anche i capelli quindi invece io sono in versione sì 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 allora senti allora ieri abbiamo fatto con polita no ma non era ieri credo che fosse l'altro ieri con polita io ho fatto una una sortita cioè una reaction perché io avevo delle notizie di mercato sai che nel mio telefonino arrivano sempre e lui reagiva allora ieri la c'è l'altro ieri abbiamo trattato morbidelli che non voleva andare in superbike e questo causava una yamaha libera ci saliva rei e reading andava in in calasacchi anche lui e invece poi dopo morbidelli non si sapeva dove voleva doveva andare dove andare nelle cr voleva andare così e c'era anche di mezzo zarco allora invece le notizie di zarco oggi praticamente è di nuovo è sempre morbidelli al centro del mercato no sei pronto che allora morbidelli non è voluto andare yamaha ok sei pronto tu su questo yamaha superbike stiamo parlando se si 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 l'ha detto chiaretono è molto arrabbiato è molto deluso mi hanno trattato male ma non a me sembra che hanno trattato pure troppo bene però non voglio andare a superbike allora in teoria doveva andare da lcr ma la notizia di oggi lo dà questo è clamoroso secondo me in ducati gresini e al posto di gianna antonio eh sì suppone di sì certo il gioco del quindici non ci avrà fine eh cioè perché è una caduta completa allora sono dove lo mettiamo in yamaha dove non voleva andare lui eh no gianna antonio sono cazzo cioè non è un problema non mi pare se no non se ne sono preoccupati cioè non è che hanno detto ah mannaggia povero gianna antonio cioè praticamente cosa succede lui lui va lì ma la cosa pazzesca è che dice vabbè ma allora in lcr che ci doveva andare lui no chi ci va e chi ci va la cosa clamorosa anche questa in lcr sempre dicono questi sono spostamenti di mercato di oggi e ve li do freschi come se foste voi nel paddock tu nel paddock ci sei stato e sai benissimo come si generano tutti questi no che alcune volte sono anche veri alcune volte sono delle minchiate di uno sordo muto che sta passando di là e sente una cosa però vabbè non è il nostro caso allora stai attento perché in lcr ci va zarko zarko che lo ricoprono di soldi perché perché attenzione la moto pramac di zarko è ufficiale sì ok se la stanno se la stanno dando a tratti o a bezzecchi che secondo me non si muoveva però vabbè o addirittura stai attento perché la roba è grossa indovina voglio vedere se indovina a marquez no no un po meno un po meno disperato dice sai ah no non ce lo possono metterci due marquez no 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 allora la moto questo è strano eh però per me ad arbolino questa è la voce clamorosa senza senso della mettiamoci seduti e puliamo fiato no ricapito no perché se io devo capirci qualcosa allora abbiamo detto no fammi capire perché cioè me le dette così devo capire devo capire perché da dove stai calmo stai calmo stai calmo ti stai agitando stai sudando non devi fare tagliati i capelli stasera c'hai ospiti allora di gianantonio lo mandiamo via e va bene si libera una ducati gresini giusto il problema ce l'abbiamo con morbidelli non è superbike che però a sua volta poteva andare da lcr giusto stai fermo 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 un attimo allora andare non andare in yamaha e superbike secondo me è una cazzata ma non ci sarebbe una cazzata ok non cina cioè secondo me sarebbe stato sarebbe stato giusto andarci non andarci per andare in lcr sarebbe stata una doppia cazzata andare andare sulla moto di gresini invece che è più figo che andare in yamaha e superbike questo siamo d'accordo quindi però secondo me è una follia a mettere morbidelli su sulla moto di gresini sì anche se sarebbe un altro pilota della scuderia vr 46 academy che va su una ducati e quindi ci avrebbe un senso tutto un senso però ebbe molto senso a mio vabbè vabbè però comunque è clamor è clamoroso ok è clamoroso anche perché consentimi intorno al team lcr si sono addensate delle nubi di cambiamento di marchio durante la pausa no ma non è vera questa cosa infatti non è vera tant'è che oggi lucio cecchini lucio cecchinello nella diretta di moto gp.com l'ha detto sì ho parlato con francesco guidotti come parlo tutte le volte con l'incontro però da qui a dire che cambio marchio insomma mi pare un po eccessivo anche perché la onda in quel team c'ha tanto interesse a francesco guidotti quindi addirittura che andava in ktm se c'è scogli dotti c'è scogli dotti secondo me ma si incontrano tutti quando entrano nel paddock e si salutano no cioè e quindi siccome mi sembra di capire che certe volte c'è gente dentro al paddock che non riconoscerebbe una notizia nemmeno se cinciampasse dentro eh oppure le ruba oppure le ruba a questo è uno sport di cui tu sei cioè tu sei il derubato principale e quindi vabbè lasciamo stare comunque da questo punto di vista eh oggi come oggi mi sembra che eh al ritorno dalle vacanze ci sia stato un po' di casino ma un po' di casino perché non c'avano niente in mano allora è una stronzata secondo me ma è grossa che zarco lo buttano fuori da pramac per andare in lcr perché dicono che lo ricoprono di soldi tutti sti soldi ma chi poi cioè lcr la onda chi non lo so lo sto rispondendo a scassa Castrol cioè andiamo a vedere quali sono quali sono gli sponsor di quella moto perché sarebbe la moto e quindi allora mi posso permettere posso permettermi di dire che è abbastanza surreale anche Arbolino in pramac al primo anno sì io Arbolino lo metterei più in Gresini sulla moto di Gian Antonio al primo anno e Morbidelli in pramac che non ci può andare perché? Ma è troppo cioè quella è una moto che si dà ai piloti che rischiano di vincere Morbidelli secondo me è in caduta libera e non lo so eh cioè a te sembra uno a cui dare non ha avuto delle belle stagioni ultimamente diciamo che l'ultima bella è in 2020 quindi sono passati tre anni e quindi insomma non lo so allora quindi come reagiamo a questa cosa sono tre cazzate sì due e mezzo ora in questo momento specifico dell'anno e tu lo sai benissimo ad agosto si montano e si smontano le carriere dei piloti con una facilità micidiale perché eh sono quelli i momenti in cui i manager stanno lavorando è qui che si lavora oggi c'era pure Marquez che diceva oddio ma io non volevo andare in KTM ma chi ha detto chi ha parlato con chi boh io non lo so insomma dormivo insomma in questo momento ci sono tante vergini insomma che volevo andare in KTM e fa ridere che si atteggiano in questo momento possiamo dire in qualsiasi cosa tutto niente anzi io c'ho una domanda per te ma due loans dentro al mondiale superbike come mi li gestisci chi li riconosce? Beh allora uno è vestito di tutto arancio eh ma due campionati diversi mo cazzarola eh tu dove vai? Ma a me non sembrano a me non sembrano così uguali a me sì sì no io sarà che c'è avuto mio padre che che ha un gemello c'è un fratello gemello mette quest'uomo per riconoscere il loss giusto no comunque a parte quello dietro quello dietro è quello che si dice di mercato è prematuro è tutto in divenire non facciamo più le trasmissioni no ma è tutto in divenire perché allora la notizia qua che di Gian Antonio si deve trovare una sella e questo è sicuro sì secondo me va in moto due in moto due e al posto di Arbolino lo metterei Gian Antonio no mi sembrerebbe ma logicamente quella moto lasciata libera da di Gian Antonio la vedo per Arbolino è la moto clienti è una moto uno step indietro cioè sì anche secondo me e però non è detto anche Arbolino beh secondo me poi anche Pernat lo porto da Nadia Gresini secondo me ma sì è un ambiente protetto un ambiente familiare è un bel ambiente è un bel team perché no cioè io ci metterei un ragazzo che approccia la moto GP è la roba più sensata e invece vogliono metterci Morbidelli Morbidelli è difficile come dici tu trovargli una collocazione oggi cioè a bocce ferme se tu fossi il manager di un team io fossi il manager di Morbidelli troverei della difficoltà io non prenderei però probabilmente lo potrei mettere nel mio di team cioè nel team se io fossi il manager di Morbidelli sarei anche il manager di guerra 46 lo metterei al posto di Bezzecchi no Bezzecchi secondo me non si dà via perché dà troppo valore al team no aspetta è vero però Bezzecchi è un valore al team di un team che ha valore perché ha creato Bezzecchi e quindi è come il team è come il team che ha creato Bagnaia quel team là vale fino a quando c'è Bezzecchi Marini è bravo ma non è abbastanza se avessero una moto solo Marini potrebbe essere sufficiente ma siccome ne hanno due e c'è Bezzecchi una volta che hanno assaggiato Bezzecchi la gente ha assaggiato Bezzecchi Marini non è più però alla fine però se tu vedi l'unico che non dà fregature dal punto di vista agonistico non ha troppi alti troppi bassi troppe follie troppi zeri troppe uscite è proprio Marini appunto è proprio Marini che funziona benino cioè allo fine Marini come una Volkswagen esatto sto sempre lì fa quel regime di giri perfetto mi arriva sempre nei dieci a volte arriva vicino al podio mi ci sale per guarda che quel ragazzo là sta facendo bene tanto bene bravo allora va bene allora ci siamo fossi fossi quel manager lì io terrei Marini dando lustro all'academy qur 46 come ho fatto con Bagnaia lo metterei in un altro posto chiave che è Pramac prenderei Morbidelli proverei a salvare Morbidelli va bene allora senti facciamo una cosa tu che c'hai ottimi rapporti perché io non tanto telefono a tu e diglielo allora vogliamo rassicurare tutti i telespettatori così si dice che né Cavalli né Polita né Scassa sono stati licenziati o eh sanzionati cioè semplicemente ci avevano da fare non è che tutte le vociam licenziare perché ancora ci deve dare dei soldi Scassa non lo possiamo licenziare perché eh deve ancora fare Polita perché si è appena sposato lo lo mettiamo e quindi c'è bisogno Cavalli è lui che che mi si compra a me ehm certamente prima di licenziarli dovremmo assumerli ma eh voglio dire tendenzialmente non esce no volevo rassicurare perché è successo a finimondo io ho visto che ci sono state delle cose ah ma è quello quando bisogna andare nei luoghi più freschi mangiare tante verdure e bere a piccoli sorsi questa è la verità questa è la verità sì sì è la verità siamo nel magico mondo della coglionella quindi voglio dire abbastanza comunque io sono molto preoccupato perché allora non storpiare le parole ok perché è molto importante questo allora eh va bene ti saluto Luca Bologna grazie ci vediamo presto ma per la live ci sei tu o parti con la la motocicletta aspetta che è arrivato Lucas Cassa aspetta Lucas allora Lucas Cassa stavamo chiudendo eh lo stavamo chiudendo no vabbè però tu dovevi mangiare il goulash penso a te ma non è la coppa di goulash è che 20 minuti dammi un attimo eh cosa deve quanto goulash puoi aver mangiato eh a parte che quello tu domani quello lo lo proponi tutto perché il goulash è punitivo eh quindi già stasera aspetta che vado all'ombra perché sennò c'è un vento della madonna ecco allora Scassa stai a sentire ho dato le notizie a Luca Bologna e allora le notizie sono quelle di oggi sono queste ti ricordi eh Morbidelli che non voleva andare su Yamaso per ok lo stanno dando in Gresini stanno dando e nello stesso tempo stanno dando Zarco in LCR con tanti soldi che non si sa di chi e addirittura questa roba proprio esotica come quelle iguane da eh stanno dando Arbolino in Pramac Arbolino in Pramac? Eh! Oddio beh per lui meglio che Onda secondo me Certo allora Luca Bologna impara a stupirti come Scassa si stupisce come non si stupisce nessuno come Polita è difficilissimo Polita sapeva niente Polita No ha detto ah sì no ma la roba bella che non sapeva niente Non sapeva niente La sapevamo tutti Sì ma lui non gliel'avevo mica detto eh Ha fatto lo stronzo ha detto Sai Polita sai c'hai la polizia sotto casa Ah sì ok cioè proprio Lui non mi voleva dare la soddisfazione Vabbè comunque senti allora Quindi aspetta Recap Morbidelli E Gheresini Giusto capito bene Sì però Vedi non mi torna sto fatto di Zarco in LCR Anche perché il più grosso sponsor là dentro è Castrol E è inglese Eh beh ma probabilmente Però perché Non so se manderei via Zarco per prendere Arbolino A me lo dici Sono d'accordo Anche questo è una chiave di lettura Boh Gheresini Non lo dici Eh Non lo so Il tema più importante L'abbiamo già detto poi nelle dirette Che Morbidelli secondo me Ultimamente Ha ritrovato lo smalto Perché Lili è sempre con Un po' alta l'inante sì Però Mai dell'anno scorso Ancora però Da Da qui a dargli una moda Ragazzi la Ducati è un premio Non è una punizione Per uno che è stato cattivo Ragazzi premio punizione Guardate che sono soldi Cioè Sì sì Ovunque Luca Scassa È una delle tematiche Una delle tematiche Lo sappiamo Una delle tematiche Una delle tematiche più importanti Scassa È stata quella del licenziamento Cioè ho dovuto smentire Con un comunicato ufficiale Che tu Polita e Cavalli Non siete stati veramente licenziati Ma noi non siamo stati licenziati Perché non siamo neanche stati Mai assunti Come messi a lavorare Capito Anche questo Anche questo l'ho spiegato Non mi assumi prima Capito No ci sono però Delle situazioni E queste Allora la verità è che tu Polita Si è appena sposato Non lo posso lasciare In mezzo a una strada No Scassa Tu scassa Devi ancora dei soldi E quindi Non ti possiamo mandare via Finché non hai pagato Cavalli C'è anche 29 euro di multe Siamo a 129 euro Esatto Esatto Cavalli Cavalli Lo sai bene E mi mette a fargli il vento Così Mi aveva anche proposto Mi ha detto Mi do 700 euro Mi vieni a fare il vento Mi racconti le news Di moto 700 euro Dopodiché Baiocco E vabbè Che stava san dire Inacquistabile Luca Bologna Domani parte per i Carpazzi In moto Quindi voglio dire Quindi Cazzo ce ne frega lui L'immagine di Baiocco Ancora niente Dobbiamo lavorare ancora Sul nuovo Allora posso dire Posso dare un'anticipazione Uscirà come t-shirt Questo è uno scoop vero Michele MotoGP Uscirà come t-shirt Oddio mio Uno Una carriera Capito Si rifà la carriera Dopo l'essere pilota Tutta Uscirà Come t-shirt Bellissimo Non vedo l'ora Basta Gnocco salvati Oh mai Va bene Ciao ragazzi Ragazzi Ciao Ci vediamo alla prossima Ciao 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 scassa Chiudiamo eh Io chiudo Ciao